Buongiorno a tutti, grazie di essere ovviamente intervenuti in questo primo incontro che è stato organizzato dall'Università di Udine in collaborazione con il Comune di Gemona, la Comunità di Montagna del Gemonese e ovviamente l'Istituto Magrini-Marchetti, questo è il daronco, è il primo di un ciclo di interventi che coinvolgerà la nostra comunità, ringrazio ovviamente la dottoressa Scarton, la professoressa Scarton, la dottoressa Missana e in collaborazione con la dottoressa Marini che hanno organizzato questa prima mattinata che coinvolge una parte di quella che è la nostra comunità e siete voi ragazzi, è anche significativo che si parta proprio da voi perché insomma siete anche quello che rappresenta il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro. Il tema di oggi è un tema sempre più attuale, sempre più sensibile e dal quale voi ma anche noi dovremmo prendere maggiore dimestichezza e conoscenza perché rappresenterà, lo è già oggi, ma nel futuro rappresenterà credo forse il tema principale sulla sicurezza dei dati e delle informazioni. I rischi sono notevoli perché se una volta si pensava ai tradizionali ladri che passano per casa a svaliggiare le case, già oggi questo può venire meno e può provocare grandi danni nel caso in cui ci sia qualcuno che da fuori con volontà diverse voglia intervenire sul possesso dei nostri dati, dati di qualsiasi natura. Quindi credo che questa prima giornata sia particolarmente importante, se oggi non è ancora percepito da tutti, senz'altro ne sentiremo parlare moltissimo nei prossimi anni e purtroppo quando se ne sente parlare, se ne sente parlare sempre perché accade qualcosa di negativo. Quindi grazie ancora, sarà una giornata importante anche per noi amministratori ovviamente e ringrazio e saremo particolarmente attenti anche nell'illustrazione del professor Montessoro che ci illustrerà senz'altro qualcosa di nuovo per tutti e ripeto soprattutto anche per noi amministratori. Passo la parola al collega Marangoni che ovviamente completerà la mia anticipazione. Grazie ancora. Buongiorno a tutti, anch'io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti e soprattutto mi unisco in collaborazione rappresentando la comunità di montagna del gemonese per quello che è un progetto come ha già annunciato il sindaco di Gemona Roberto Reveland, veramente importante una tematica centrale, cyber security, sulla quale tutti noi dobbiamo porre la massima attenzione non solo da adesso ma sicuramente da adesso e per i prossimi anni. Io direi che anche come comunità di montagna del gemonese abbiamo sì il compito importante di cercare di promuovere e lavorare su progetti sovracomunali che molte volte si vedono quindi quando si parla di progetti sovracomunali si parla di opere ciclabili, sostenibilità ma senz'altro dobbiamo anche noi porre la massima attenzione su tematiche come questa che sono fondamentali per noi attualmente e soprattutto per le prossime generazioni come ha già ben detto il sindaco di Gemona Reveland. Pertanto io non mi dilungo oltre, sono qui anche veramente in veste molto interessata per imparare e per capire meglio, credo che tutti possiamo sempre imparare e come abbiamo detto prima se si inizia anche dalle nuove generazioni senz'altro facciamo un grosso investimento per il futuro. Pertanto io rinnovo ringraziamenti a tutti coloro che collaborano e hanno collaborato per questo progetto e vi auguro un buon primo convegno, un buon inizio, grazie. Ringrazio le amministrazioni per l'opportunità, ringrazio soprattutto l'università per le competenze che ci porteranno, è un'occasione fantastica per i ragazzi e questa della cyber security può essere vista come un rischio ma per noi può essere vista anche come un'opportunità, si apriranno dei posti di lavoro notevoli in questo ambito, quindi sicuramente seguite questa conferenza in maniera interessata perché può essere veramente il vostro futuro non soltanto di paura ma di lavoro, questa è una cosa molto importante, quindi avere competenze digitali avanzate è fondamentale, competenze digitali ormai ce l'hanno quasi tutti, quelle avanzate diventeranno sempre più importanti, quindi adesso ascolteremo il professor Montessoro che saprà raccontarvi, visto che è un ottimo divulgatore, cosa abbiamo adesso e cosa ci attende nei prossimi anni e quindi un saluto a tutti e un ringraziamento di nuovo all'università per l'opportunità data ai nostri ragazzi. Buongiorno a tutti, io sono Elisabetta Scartone, sono una docente del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale ma oggi sono qui come rappresentante delegata del magnifico rettore Roberto Pinton del quale vi porto i saluti. Ringrazio il Comune di Gemona per aver caldeggiato questo importante secondo ciclo di conferenze che toccano snodi critici anche temi di attualità come abbiamo sentito, abbiamo visto anche la settimana scorsa a San Daniele e ringrazio voi giovani oggi presenti, i vostri docenti e i dirigenti che ho conosciuto questa mattina per aver accolto la proposta e averla fatta vostra su un tema tanto attuale quanto scottante e insidioso. Io come vi ho detto insegno storia medievale, permettetemi solo questa piccola chiosa, per molto tempo e ancora oggi qualcuno parla del Medioevo come di secoli bui, impropriamente, e lo fa soprattutto alla luce di alcuni miti negativi e in particolare del fatto che il periodo storico immediatamente successivo, il Rinascimento, coincise proprio con un periodo di rinascita, di ritorno alla luce. Ma anche il Rinascimento che sembra tanto bello effettivamente ha avuto il suo redderazione. Jacques Le Goff, un grande medievista morto pochi anni fa nel 2014, a un certo punto è arrivato a chiedersi e lo ha chiesto, se lo è chiesto e lo ha chiesto al pubblico con cui ha dialogato più volte, se il Rinascimento sia mai esistito. È una domanda effettivamente lecita perché da un punto di vista tecnologico va detto che il Medioevo sembra quasi sia finito nel ventesimo secolo. Sembra che con tutte le tecnologie noi stiamo davvero su un altro pianeta. Io penso a mio nonno che già non si capacitava dell'uso di un telefono bigrigio attraverso il cui filo passava e sentiva la voce delle persone a lui lontane. Se oggi mi vedesse con in mano lo smartphone probabilmente si spaventerebbe. Ecco, l'astraordinario potere di smartphone e tablet sicuramente è il potente fascio di luce che essi ci permettono di godere. Io stessa per esempio grazie a questi strumenti riesco a vedere manoscritti che sono conservati in biblioteche americane può trasformarsi in tenebra molto più potente decisamente di quella dei secoli medievali. Quindi l'incontro di voi di oggi, come vi ha detto anche il vostro preside, non vuole incutervi paura ma vuole aiutarvi a fornirvi gli strumenti per la conoscenza, per capire, per voi ragazzi che siete oggi ma anche per il vostro ruolo che vi aspetterà in un futuro non troppo lontano e come genitori e come futuri educatori presumibilmente. Ringrazio il professor Pierluca Montessoro, professore ordinario di Sistemi di Elaborazione del Dipartimento di Politecnica, Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine, che negli ultimi anni si è dedicato proprio anche a questi temi della cyber sicurezza. Ha portato attenzione al tema della sicurezza informatica e oggi ce ne metterà a parte, non è la prima volta che lo fa e che interviene su questi argomenti. Ringrazio infine la dottoressa Alessandra Missana, che è la responsabile dell'ufficio divulgazione dell'Ateneo dell'Università di Udine, che oltre ad essere un motore molto potente è anche una cerniera straordinaria tra la nostra università e il territorio. Grazie a tutti. Bene, allora è ora di iniziare. Io ringrazio tutti quelli che sono già stati ringraziati, così... Perdonami solo una cosa, ho dimenticato di dirvi, scusate, che alla fine dell'incontro sarà proiettato un video che mostra il patto per il territorio siglato fra l'Università e il Comune di Gemona e che mostra anche le bellezze di Gemona, tra l'altro. Scusate, grazie. No, assolutamente sì. Vi do il benvenuto a questo seminario che tocca un tema che io sento molto vicino anche alla mia esperienza, al contatto che ho ormai da tantissimi anni con i più giovani, perché la cyber security è un qualcosa che ci tocca estremamente da vicino, anche se molto spesso non lo si sa ancora. Purtroppo il tema è stato ulteriormente toccato e anche pubblicizzato proprio in questo periodo drammatico in cui assistiamo anche a una guerra, perché parallelamente alla guerra fisica dovete sapere, o probabilmente lo sapete perché è stato detto sui giornali, ai telegiornali, che c'è una guerra cibernetica, cioè si tende a limitare le funzionalità di un paese nemico utilizzando strumenti informatici. E infatti ci sono documentazioni di queste due potenze, anzi una superpotenza e un povero paese che è stato invaso, che stanno arruolando hacker in giro per il mondo per cercare di attaccare e o difendersi sul piano cibernetico. Allora direte, vabbè ma io cosa centro? Che per fortuna non siamo neanche in guerra. Allora vi racconto una cosa che forse avete letto, di cui avete sentito parlare, cioè tempo fa, non tantissimo, è stato bloccato il sistema delle prenotazioni per i vaccini del covid nella regione Lazio. Si è parlato di un potente attacco hacker, non è vero. In realtà quello che è successo è che uno dei dipendenti della regione Lazio che lavorava al sistema informativo per gestire le prenotazioni delle vaccinazioni aveva lasciato giocare il figlio o la figlia con il suo computer. Il figlio o la figlia ha ovviamente inconsapevolmente adescato, è stato adescato da una mail cosiddetta di phishing, ne parleremo, quindi ha commesso una ingenuità che ha portato sul computer del dipendente un virus, un malware, un software nascosto che è poi servito una volta che il computer è finito dentro la rete della regione Lazio perché il genitore è andato a lavorare ha permesso a questo malware di attaccare con successo il sistema informativo delle prenotazioni. E quindi è stato un ragazzo come voi, la causa ovviamente inconsapevole di questo attacco. E questo ci fa capire come facciamo parte tutti di una rete, non solo della rete internet ma di una rete sociale, per questo si parla anche dei social network, no? Per cui siamo tutti interconnessi ma siamo interconnessi anche con le nostre azioni e la prima difesa che dobbiamo mettere in piedi per evitare che avvengano questi eventi che possono avere anche conseguenze drammatiche e maturare della consapevolezza, cioè sapere che cos'è il mondo in cui stiamo vivendo, come fatto, quali sono le sue debolezze e quali sono i comportamenti che dobbiamo adottare. Tanto per darvi un'idea, questa è una mail di phishing. Cos'è una mail di phishing? Le mail voi non le utilizzate ancora tanto ma sono uno strumento fondamentale per lavorare e devo dire anche presto le utilizzerete come strumento di studio, come strumento di interazione, per esempio, con il sistema universitario. Molte mail appaiono un po' come questa in cui vi presentano dei link da cliccare, ok, per eseguire determinate operazioni, accedere a determinati servizi e così via. Ora, il problema delle mail, uno dei problemi fondamentali nella cybersecurity è che le mail, di fatto, oltre a non essere autenticate e quindi potrebbero non essere autentiche, non vi presentano neanche esattamente quello che contengono, vi fanno vedere un qualcosa che può essere diverso. Ve lo faccio vedere con questo esempio. Ho preso quel pezzettino di questa mail che invita a confermare i propri dati e l'ho messo in un file, che è questo, in cui si vede soltanto quella scritta, poi il resto è tutta coreografia che sta intorno, ma la cosa chiave è questa scritta. Allora, quando io clicco su quella scritta vado su una pagina del web, soltanto che se io mi posiziono col mouse sopra quella scritta che dice di andare su Aruba.it, Aruba è un service provider, quindi un soggetto che ci fornisce dei servizi internet, e vado a guardare in basso a sinistra nel nostro browser, cosa che è praticamente impossibile vedere qua perché è troppo sfocato, ma ve lo leggo io, il link che viene fuori è www.tifregolapassword.com ed è associato a quella scritta che apparentemente è innocente, Aruba.it conferma email. Com'è possibile? È possibile perché dentro al mail di fatto c'è una parte che mi fa vedere quello che deve essere, diciamo, formattato nella pagina con tutti i colori e tutte le cose appariscenti. E sotto, e poi c'è una parte che invece dice che cosa fa sotto realmente. E poi possono essere diversi. Ecco quindi che non sapere questo, per esempio, induce molte persone a fidarsi di quello che c'è scritto nella mail senza pensare che quello che appare può non essere quello vero. È chiaro che nessuno cliccherebbe su un sito www.tifregolapassword.com, però Aruba.it conferma mail e sembra innocente. Allora, vorrei farvi vedere un altro piccolo esempio a proposito invece di programmi di qualsiasi tipo. Qui mi è comodo fare un esempio con un programma che gira sul computer, ma potrebbe essere un'app che scarichiamo sul nostro telefonino. Siccome siamo sempre un po' arrugginiti con l'aritmetica, usiamo spesso dei programmini, per esempio, anche soltanto per fare dei semplici conti. Allora, io ho scritto un programmino che fa la somma. Un programma che riceve due numeri, per esempio 2 e 2, e me ne fa la somma. Dice 2 più 2 uguale a 4. Ho anche un altro programma che si chiama somma b, in cui se scrivo 2 e 2 ottengo 4. Qual è la differenza tra questi due programmi? Apparentemente nessuna, soltanto che un po' dopo aver fatto girare il secondo programma, compare una scritta. Ciao, io sono innocuo, ma potrei anche essere un virus. Cioè questo secondo programma apparentemente ha fatto esattamente quello che faceva il primo, ma conteneva, contiene, del codice nascosto che non ha dato nessun effetto subito e mi scrive questo per avvertirmi guarda che c'è del codice nascosto in esecuzione, soltanto perché io l'ho messo per farvi vedere che cosa può succedere. Ecco, questa è una cosa che è importante sapere. Quello che fanno i programmi, esattamente come per le mail, quello che appare non necessariamente è tutto e solo quello che poi davvero succede. Primo livello di consapevolezza. Non so se voi siete tanto giovani e quindi è difficile che abbiate visto o abbiate sentito parlare di questo film, ma questo film, 1983, War Games, è stato il primo film che ha parlato di hacker. E a quel tempo gli hacker erano dei ragazzini, appunto i due protagonisti, eccoli qua, che per gioco cercavano di violare i sistemi informatici, i sistemi in particolare qui della difesa americana. Ne avrete sentito parlare dei ragazzini che per gioco violano i sistemi. Ecco, bene, scordatevelo. Non è più così. La cyber security oggi è questione di criminalità organizzata. Ci sono tantissime, purtroppo, persone, criminali, che fanno business, tanti soldi, sulle spalle di coloro che usano i sistemi informatici. Privati e aziende. Tanti, tanti soldi. Quindi siamo tutti bersagli di un sistema estremamente, estremamente capillare ed estremamente potente. E voi, che siete in massima parte abbastanza esperti di questioni informatiche, probabilmente pensate, sì, vabbè, ma con tutta la fatica che si fa per imparare a scrivere programmi, e peggio ancora scrivere programmi di questo tipo, virus, eccetera, eccetera, quanti voi che siano i criminali che hanno studiato così tanto in grado di farlo? In realtà è vero, pochissimi, ma non c'è bisogno di essere esperti. Perché oggi gli strumenti per violare i sistemi li comprate, non dovete svilupparli voi. Ci sono relativamente pochi, rispetto al numero di criminali informatici hacker, che sviluppano strumenti di aggressione informatica e li mettono sul black market, sul mercato sommerso, in cui per una manciata di dollari si compra quello che si vuole per effettuare gli attacchi. Quindi attenzione, per essere criminale informatico basta avere un po' di soldi e essere tanto spregiudicati. Chiaramente c'è anche un aspetto tecnico, cioè perché siamo così vulnerabili? Tutto sommato i sistemi dovrebbero essere più sicuri. Ci sono tante ragioni, la prima è che i sistemi sono estremamente complessi e voi, chi ha un po' di esperienza di programmazione, di informatica, sa che questi sistemi sono molto complessi. Ma quanto sono complessi? Qui avete alcuni numeri, tanto per darvi un'idea, i sistemi di Google richiedono, si basano su circa 2 miliardi di linee di codice. Ora, capite che non è pensabile capire che cosa fanno nel loro complesso questi sistemi. Un essere umano, esperto, può avere una competenza su una piccola parte e in quei 2 miliardi di linee di codice, che tra l'altro vengono cambiate in continuazione, si stima 15 mila modifiche ogni giorno, è chiaro che può nascondersi qualche errore di programmazione che apre la porta delle vulnerabilità che gli hacker possono sfruttare. E questo vale per qualsiasi programma. E quindi quello che dobbiamo sapere è che i nostri sistemi di fatto sono degli oggetti in cui c'è un brulicare di attività fuori dal nostro controllo che non possiamo verificare direttamente e che in parte possono, e ahimè spesso effettivamente lo fanno, svolgere dei compiti che vanno a beneficio degli hacker. piccolo esempio proprio sugli smartphone. Diamo informazioni più o meno sensibili, facciamo pagamenti elettronici, magari qualcuno comincia già a utilizzarli questi sistemi, facciamo un banking, svolgiamo delle attività che sono importanti per la nostra vita nel mondo reale, e non nel mondo digitale. Ecco, questo malware, che si chiama Clock & Dagger, che ha fatto abbastanza strage nei tempi passati ma è ancora presente, è un software che a vostra insaputa costruisce una tastiera trasparente sul vostro smartphone. Quindi quando voi schiacciate i tastini della tastiera, in cui inserite per esempio i codici di accesso, in realtà schiacciate i tastini su due tastiere, quella trasparente del malware e la vera. Ovviamente cosa fa la tastiera trasparente? che prende tutto quello che voi avete digitato e lo manda all'hacker, che quindi sa tutto ciò che fate. È chiaro che poi tutti i dati vengono crittografati, ma è rilevante perché se voi leggete quello che viene scritto, acquisite lo username, la password, il PIN, eccetera, di chi è stato vittima di questo attacco. Il problema chiaramente è che la presenza di questo software non è assolutamente evidente. L'idea della tastiera trasparente da un certo punto di vista è proprio la metafora perfetta del software, di qualcosa che vi ruba le informazioni senza farsi vedere. E quindi cosa possiamo fare? Innanzitutto dobbiamo capire che il mondo digitale si basa su un concetto fondamentale che è la fiducia. e il primo passo è quindi capire che qualsiasi cosa noi facciamo stiamo dando fiducia a qualcuno o a qualcosa. In che cosa? Beh, ovviamente nei fornitori di servizi. Se decidiamo di dare le nostre informazioni, i nostri soldi alla banca, ci fidiamo della banca. Se diamo le nostre informazioni a Facebook, ci fidiamo che Facebook le usi in modo corretto e così per i vari social. Se mandiamo i nostri messaggi via Whatsapp, ci fidiamo che Whatsapp non ne faccia un uso che possa danneggiarci. Ma poi ci fidiamo anche di chi gestisce le reti con cui queste informazioni viaggiano. Perché chiaramente i nostri messaggi passano attraverso dei sistemi di rete molto complessi, che vengono gestiti da qualcuno. Ma anche questi provider e questi gestori delle reti, a loro volta si fidano di altri, perché non sono loro per esempio a scrivere il software che usano e a costruire gli apparati. Loro usano sistemi sviluppati da terzi. E quindi noi ci fidiamo del provider, il provider si fida di chi gli costruisce gli apparati. E poi ci fidiamo di chi ha costruito anche i nostri dispositivi. Avrete sentito parlare delle scelte fatte da alcune nazioni, per esempio dagli Stati Uniti nei confronti di alcuni produttori di sistemi cinesi. perché ritengono, dopo aver analizzato il contenuto, il software di questi sistemi, che questi sistemi siano in grado di inviare delle informazioni sul traffico che attraverso, che viene gestito da questi dispositivi proprio al governo cinese, che magari può utilizzarlo solo per ragioni di guerre commerciali, di concorrenza e così via. Poi scarichiamo app dagli store. Questo è un problema estremamente grave, perché nel momento in cui voi scaricate un'app, di fatto mettete sul vostro telefono un qualcosa che è stato sviluppato da qualcuno che non conoscete. Allora è chiaro che se state sviluppando l'app che è associata al oggetto che avete comprato e che riporta l'app che è stata sviluppata apposta, in qualche modo avete un riferimento a qualcuno che ha sviluppato e di cui vi fidate, gli avete comprato anche un dispositivo. Non so, il termostato di casa che con l'app potete controllare da remoto. Ma ben diverso è se scaricate il giochino o un programma che non ha nessuna referenza dal punto di vista dell'affidabilità di chi l'ha sviluppato. Attenzione perché anche gli sviluppatori del software usano degli strumenti. Ci sono stati casi in cui chi ha sviluppato il software, che era una persona o un'azienda di tutto rispetto autorizzata a sviluppare le app per una grande azienda, ha incautamente utilizzato un compilatore che era stato violato e quindi ha generato un software con del malware senza neanche saperlo. E poi c'è l'hardware, perché anche l'hardware può contenere delle vulnerabilità o addirittura dei virus, la nuova frontiera nella sicurezza informatica e proteggersi per chi deve proteggersi o inserire vulnerabilità per chi vuole attaccare direttamente dentro l'hardware. Cosa che potete immaginare è drammatica perché significa che non potete più pensare agli antivirus per eliminare un malware che sta dentro l'hardware dovete fisicamente staccare il pezzo e sostituirlo. E se non vi basta, anche lo sviluppo dell'hardware viene fatto con degli strumenti software e quindi è possibile pensare di mettere del malware, del software malevolo dentro gli strumenti che permettono di costruire dell'hardware che dentro avrà le vulnerabilità che servono all'hacker. Ok, capite che la situazione è piuttosto inquietante. Il discorso delle app è, come vi dicevo, probabilmente il principale elemento, la principale criticità nei nostri sistemi, tant'è vero che molti analisti ritengono che mediamente gli smartphone siano aperti a tutti, o meglio, a tutti gli hacker, cioè che gli smartphone non si possono considerare sicuri, a meno che non li abbiate gestiti con estrema, estrema, estrema cautela. E' molto probabile che nelle varie app che avete scaricato ce ne siano alcune che usano i vostri dati in modo più o meno legale, ma soprattutto in modo più o meno pericoloso per voi. Detto questo, sappiate che il problema non è solo tecnologico, anzi tutto ciò che abbiamo detto di fatto rappresenta una piccola parte della cyber security, perché la maggior parte degli attacchi in realtà avvengono grazie a una cosa che si chiama social engineering. E qui il discorso della conoscenza e della consapevolezza diventa fondamentale. Gli strumenti informatici, gli strumenti di comunicazione che esistono oggi, permettono di veicolare attacchi di tipo social engineering in modo estremamente efficace, massiccio, e anche in modo estremamente protetto dal punto di vista dell'attaccante, nel senso che resta nascosto e difficilmente viene tracciato. Cosa significa social engineering? Significa far leva sulla tendenza che abbiamo in determinate condizioni a fidarci di ciò che ci viene detto, ciò che ci viene chiesto. Avete capito il discorso della fiducia? Ecco, proprio lavorando sulla fiducia, gli attaccanti che si basano sulla social engineering riescono a indurci a comportamenti pericolosi, a beneficio ovviamente loro. E quindi per difenderci da questo bisogna essere innanzitutto consapevoli di questo problema, ma poi anche attenti. non so se avete un minimo seguito tempo fa le elezioni presidenziali che hanno portato Trump a essere il presidente degli Stati Uniti quando Hillary Clinton ha perso le elezioni. si è parlato molto di hacker russi che hanno boicottato la campagna promozionale per Hillary Clinton. Bene, questa è una copia della mail di phishing che ha ricevuto il responsabile della campagna per Hillary Clinton e da cui è partito questo attacco che, diciamo, un po' al pari del problema che si è verificato nel sistema di prenotazioni dei vaccini della regione Lazio, loro si sono scontrati con questo problema. ed è stato un problema basato proprio su una mail di phishing e quindi sulla ingenuità di questa persona che, non avendo seguito questo seminario, ha letto quella mail e ha cliccato sul link che, al posto che mandarlo su conferma la tua mail, ha mandato su un qualcosa tipo www.tifregolapassword.com. Cosa fanno molti di questi link delle mail di phishing? Oggi quello che fanno molto spesso è crittografare i vostri dati per chiedere un riscatto. E questa è una cosa che succede molto frequentemente, tantissime aziende anche qui del territorio ne sono regolarmente colpite. Il meccanismo è il seguente, si clicca su una mail appunto di phishing oppure si scarica un programma che contiene del malware, un malware detto crypto locker, che blocca l'accesso ai file perché li criptografa. E poi compare un messaggio tipo questo in cui viene chiesto il pagamento di un riscatto, magari dimensionato in base all'importanza e alla disponibilità economica dell'azienda. se è un privato o una piccola azienda, un piccolo ufficio, magari sono poche centinaia di euro, sperando che questo paghi e in cambio gli si promette la chiave per decifrare i dati e ritornare in possesso dei dati. Cosa che anche se si paga non sempre avviene, come certifica la Polizia Postale delle Comunicazioni che monitorizza questi drammatici eventi. Tenete conto che per un'azienda perdere i propri dati, perdere il proprio sistema informativo, molto spesso significa chiudere, perdere il lavoro. Quindi non è uno scherzo. E come ci si protegge? Beh, per esempio qui ci si protegge su due fronti. Il primo è la conoscenza del problema e quindi fare in modo che nessun dipendente dell'azienda si faccia ingannare da questo tipo di mail, ma anche che nessuno agisca in modo pericoloso, per esempio scaricando dei programmi insicuri di cui non sappiamo la provenienza. dall'altro prevenendo la perdita dei dati con, per esempio, delle politiche di backup. Cioè fare in modo che i dati siano sempre replicati su dispositivi offline, cioè io faccio la coppia dei dati e poi stacco il disco su cui ho fatto la copia. E non faccio la coppia solo su un disco, ne faccio almeno due. E tengo computer e i due dischi in posti fisicamente diversi. Non si fa mai la copia del proprio disco e poi la si mette nella borsa del computer e il computer lo si lascia in macchina, così quando ci fregano la macchina ci hanno fregato la macchina, il computer e tutti i nostri dati, anche il backup. Bisogna prevenire questo tipo di problema. Tenete conto che quello che vi dicevo delle aziende che chiudono è un dato reale, è un qualcosa che accade. Pensate cosa significa se, per esempio, il ragazzo o la ragazza che ha scaricato l'app sullo smartphone del genitore che poi ha fatto sì che questo portasse un crypto locker dentro un'azienda, si ritrovasse con il genitore che ha perso il lavoro, di fatto per colpa sua. Ecco, riflettete su questo. Voglio spaventarvi, un po' sì, un po' anche sì, perché siamo in pericolo di fatto. C'è un'altra cosa che è importante sapere, è un qualcosa su cui vi scontrerete nel futuro, ve la dico adesso perché fra un po' di anni sarà la vostra realtà, ed è un qualcosa di drammatico. nel 2018 l'FBI dice che ha fruttato agli hacker, solo questo tipo di attacco, 12 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Di cosa si tratta? Si chiama Business Email Compromise, un nome altisonante per un attacco molto raffinato. E cioè, grazie a qualcuna di queste app, di questi malware, eccetera, che leggono i dati sul nostro telefonino, l'attaccante legge le mail, legge tutto quello che noi facciamo, e se trova che la persona attaccata, attaccandone milioni qualcuno lo trova, e coinvolta in quegli scambi di mail, scambi di informazioni commerciali tipo ordine, conferma dell'ordine, dati del pagamento, conferma del pagamento, sempre uguali, le aziende soprattutto con l'estero funzionano esattamente così, riesce a intromettersi in una comunicazione e nel momento in cui chi deve effettuare il pagamento sta aspettando la mail con i dati, per esempio l'Iban, il conto corrente su cui fare il versamento, anticipa chi deve spedire la mail, forgiando una mail perfetta, esattamente come quella che chi deve fare il pagamento si sta aspettando, ma con l'Iban di un suo conto corrente, dell'attaccante. E così il versamento viene fatto su un conto corrente che poi ovviamente sparisce, viene svuotato, sparisce, e i soldi vengono persi. Si tratta molto spesso di attacchi mirati, fatti a dipendenti di aziende che lavorano con l'estero e che scambiano tanti soldi, tipo centinaia di migliaia di euro, ed è un qualcosa che accade qui vicino a voi, da queste parti, ok, non nei lontani Stati Uniti. E quindi come ci si difende da questo? Beh, attenzione, bisogna sapere la consapevolezza del fatto che la mail non è autenticata, che può essere forgiata, può apparire diversa da quello che in realtà è, per esempio il mittente può non essere quello vero, e sapendo questo, prevenire il problema, facendo cosa? Facendo una verifica. Se stiamo trattando un dato molto sensibile, molto importante, molto delicato, alziamo il telefono, telefoniamo e chiediamo, mi confermi quel numero di conto corrente? Se, e se la risposta è no, come per fortuna ho avuto modo di sapere, è successo proprio qui in regione, a un dipendente che questa cosa l'ha fatta, e la risposta è stata no, non è quello l'Iban. E almeno in quel caso i soldi non sono stati sprecati, persi. Bene, poi avete sentito parlare, lo sapete, forse ci state giocando con la Internet of Things, cioè cose, oggetti smart che comunicano fra di loro, per che cosa? Per fornirci maggior comfort nelle abitazioni, facendo interagire tutti i nostri sistemi domotici. Le smart cities, per coordinare attività legate a servizi, per esempio dalla raccolta rifiuti, alla gestione del traffico, dei semafori e così via. Il mondo, perché una distribuzione di servizi a livello globale, che può anche essere legato all'energia elettrica, adesso tra l'altro parliamo dei problemi di approvvigionamento di gas, eccetera. Abbiamo dei possibili grandi benefici, grazie a sistemi che ottimizzano in modo automatico tutto questo. E la domanda chiaramente è bene, ma dal punto di vista della cyber security, siamo pronti per la Internet of Things? E la risposta ovviamente è sì. Siamo pronti? In che senso siamo pronti? Nel senso che questo, per esempio, è un motore di ricerca per gli hacker, per chi vuole giocare a fare l'hacker, che vi fa accedere a tutti i sistemi della Internet of Things che non sono protetti. Perché uno dei problemi della Internet of Things è che voi dovete distribuire milioni di dispositivi piccoli, economici, semplici, semplici da usare, semplici da installare. E lì le scelte sono due. O fate in modo che chi li installa abbia quelle competenze e quella voglia di lavorare per mettere in sicurezza il dispositivo prima di metterlo in produzione. Oppure fate una configurazione di default che va bene per tutti in modo tale che chi piazza il dispositivo lo accende e se ne dimentica. E' chiaro che la configurazione di default è nota poi a tutti e chiunque può accedere a quel dispositivo. Accedere facendo cosa? Beh, per esempio, creando una botnet. Cos'è una botnet? Quando voi avete milioni di dispositivi che sono vulnerabili e quindi in cui potete aver installato del vostro software, potete fare in modo che questi dispositivi poi rispondano ai vostri comandi. Rispondano ai vostri comandi per fare cosa? Per esempio per creare degli attacchi detti distributed denial of service in cui milioni di dispositivi contemporaneamente, per esempio, generano un'elevata quantità di traffico verso una rete, una rete, un pezzo di internet da qualche parte nel mondo. Così facendo, avendo una potenza di fuoco che viene da milioni di dispositivi che agiscono contemporaneamente, si riesce a bloccare un'intera rete. Mirai è una delle tante botnet che esistono, ma la cosa impressionante è che sono botnet che voi potete affittare. Anche qui non dovete, quando io dico voi dovete infettare, voi dovete, ovviamente mettendosi nei panni dell'hacker, in realtà non c'è bisogno di farlo realmente. Di nuovo, si compra il servizio sul black market. Ecco, Mirai ha una prospettiva, l'ultimo conteggio che è stato fatto nel 2017 erano qualcosa tipo da circa uno a più di due milioni e mezzo di dispositivi infetti, probabilmente oggi sono già dieci volte tanti. E che cosa fanno queste reti? Beh, per esempio è già stato, tra virgolette, sperimentato da degli hacker un attacco in grande scala. È stata bloccata l'intera internet della Liberia, che è un piccolo stato dell'Africa. Cosa può significare bloccare l'internet di un'intera nazione? Pensateci, non funziona più nulla, non funzionano più le comunicazioni, non funzionano più i servizi, non funziona più la sanità, non funziona più il 118, non funziona più probabilmente la rete elettrica. Praticamente si vince una guerra senza neanche bisogno di sparare un colpo. Cosa vi ricorda questo? Questa è la Volkswagen e sto facendo riferimento al Dieselgate. Il Dieselgate è un esempio di una cosa, un'automobile con del software dentro, che ha ingannato un'altra cosa. Il sistema di misura delle emissioni. Il funzionamento era esattamente questo, un inganno scritto dentro il software, che riconosceva a bordo dell'automobile le condizioni di test e abbassava la potenza e quindi le emissioni per far passare la certificazione, ma poi, una volta terminato il test, permetteva di nuovo al motore di esprimere la potenza massima e quindi anche di inquinare di conseguenza. Ed è il problema delle cose che ingannano cose e cose che ingannano persone, se ne parla molto. Se andate in rete a cercare cose del genere trovate delle vignette in cui si combina il CryptoLocker e la domotica e a questo punto trovate cose come questa che dice che il frigorifero si apre soltanto se lo pagate in Bitcoin, altrimenti fate la fame. Ve la lascio poi come futuro approfondimento. Allora detto tutto questo e quindi sperando di aver un po' avervi incuriosito, ma anche avervi fatto iniziare questo processo verso una maggior consapevolezza, cerchiamo di capire che cosa si può fare per sopravvivere in questo mondo digitale. E quindi come fare a diventare dei cittadini digitali che da un lato sono consapevoli del problema della cyber security, dall'altro sono pronti per il futuro che sarà appunto la Internet of Things. Allora, primo, questo è un po' il contesto in cui ci muoviamo, siamo attaccati continuamente. Credo che sappiate che se voi collegate un computer in rete, passano pochi secondi da quando viene attaccato. Non importa che sia il vostro computer di casa su cui non c'è nulla che interessi a nessuno. Ormai gli attacchi sono fatti in modo totalmente automatico. Queste botnet servono anche per attaccare tutto ciò che esiste. E il tra virgolette basta che respiri nella versione cyber security, ok? Quindi dovete sapere che siete probabilmente attaccati e probabilmente il vostro smartphone è infetto, quindi è possibile che abbiate delle app che non fanno solo quello che dicono di fare. È possibile che anche il vostro computer, infetto, se avete scaricato del software illegale, del software craccato, è estremamente probabile che abbiate del malware a bordo, perché chi prepara il software craccato tipicamente ci mette dentro del malware per prendere il controllo del vostro computer o acquisire i vostri dati. I dispositivi sono comunque sempre permanentemente sotto attacco. Anche chi vi offre i servizi è sotto attacco. Quindi è vero che possiamo spostare un po' il rischio portando i nostri dati verso un provider esterno, ma è anche vero che anche questi provider esterni sono sotto attacco, quindi comunque un po' di precauzione nella gestione dei nostri dati è importante anche in questi casi. E poi voi stessi, con il problema della social engineer, voi siete sotto attacco sempre, e quindi sempre massima cautela, che in versione sicurezza significa essere paranoici. Ma la paranoia nel mondo della sicurezza è una virtù e questo lo dicono dei grandi esperti. Per esempio, voi in buona parte siete programmatori, c'è online disponibile gratuitamente questo libro del Weller che si chiama Secure Programming How To, dove dice proprio che la paranoia è una virtù ed è una guida per scrivere programmi che minimizzano la presenza di vulnerabilità. Cosa significa essere paranoici? Beh, per esempio, quando utilizziamo i social network, pensare a come possono essere usate male le informazioni che noi mettiamo. Allora, un po' di tempo fa, questo è bellissimo, c'era, forse ve lo ricorderete, un modo per recuperare le password rispondendo a una domanda segreta. E la domanda segreta la mettevate voi, ok? E quindi, cosa si faceva? Beh, per esempio, si metteva come si chiama il mio animale domestico? E la risposta la scriverate voi, la prima risposta si chiama Daphne. Chi vuoi che indovini che il mio animale domestico si chiama Daphne? Cioè, i gatti si chiamano micio, ok? Si chiamano difficilmente Daphne. Poi però, la stessa persona cosa faceva? Andava su Facebook e metteva la foto del proprio animale domestico scrivendo, guardate com'è bello Daphne. Allora, non ci voleva molto ad andare su Facebook, prendere un po' di dati della persona e poi usarli per rispondere alle domande segrete e accedere agli account di chi era su Facebook. E questo veniva regolarmente fatto. Un altro problema di Facebook, per esempio, o dei vari social network è che hanno una memoria da elefante, come si dice. Le informazioni restano lì probabilmente per sempre. Quali possono essere le conseguenze, e questo interessa soprattutto voi, le conseguenze possono essere che in futuro alcune cose che voi avete postato possono essere utilizzate come male. Male magari non dagli hacker, ma da qualcosa che in prospettiva potrebbe essere addirittura peggio. probabilmente sapete che molti sistemi di analisi dei curriculum che vengono inviati alle aziende hanno una fase di, le procedure che usano le aziende, hanno una fase di scrematura fatta in modo automatico. Ormai ci sono dei programmi, spesso basati sull'intelligenza artificiale, che analizzano i curriculum spediti e ne selezionano quel 10% su cui poi i responsabili del personale poi entrano veramente, leggono e valutano. Queste scremature vengono fatte incrociando anche dati sui social network. Quindi può succedere che a fronte di un post magari vecchio di 10 anni, un po' sconsiderato, guarda che bello sballo mi sono fatto eccetera eccetera, poi i sistemi automatici di analisi dei curricula non vi considerino, perché poi il vostro curriculum non arriva neanche alla persona che può valutarlo e capire quanto siete validi, perché viene eliminato prima. Quindi estrema cautela in quello che noi postiamo. Un'altra cosa importante, questo ve lo diceva la mamma, ve lo dicevo di nuovo io, non accettare le caramelle dagli sconosciuti. Cosa sono le caramelle dagli sconosciuti? Oggi sono i programmi craccati. Quelle sono caramelle dagli sconosciuti. Non sappiamo chi li ha craccati, siamo sicuri che sono persone in grado di fare quello che vogliono con i nostri programmi e quindi anche di infettare il nostro computer. Legare la bicicletta lo fate tutti, questo qua l'ha fatto un po' troppo poco in passato e quindi adesso ha riempito la sua bicicletta di lucchetti. Cosa significa? Significa come chiudiamo a chiave la nostra abitazione, chiudiamo il nostro computer o il nostro smartphone bloccandolo con delle password, dei PIN. Non lo lasciamo aperto. Se perdiamo il telefono e non c'è una password o un riconoscimento biometrico, chiunque lo ritrovi, o peggio ce lo rubi, può accedere ai nostri dati, alla nostra mail, alle nostre informazioni personali. Sembra banale, ma le aziende spesso hanno delle politiche delle password molto deboli. Se avete degli amici o in famiglia qualcuno che vi possa far fare un giro in uno studio, magari una piccola azienda, uno studio professionale eccetera, andateci, alzate le tastiere e poi provate a contare quanto password scritte sul post-it e appiccicate sotto la tastiera trovate. Ve lo garantisco, è un classico. Tanto per darvi un'idea di quanto sia poco percepito il problema, questo è bellissimo, era il 6 marzo 2021, Tg3 nazionale delle ore 19, attenzione, servizio sul sistema di prenotazione dei vaccini, sempre non lo stesso della Regione Lazio, è un altro, ma si vede che è un classico per loro. Allora, nelle inquadrature ad un certo punto compare questa. Non so se riuscite a leggere, ma ve lo dico io. Ignorate i rettangolini neri che ho messo io per pudore, perché nell'inquadratura si vedeva benissimo appiccicato al muro dell'ufficio dove si gestiscono le vaccinazioni, username e password per accedere al sistema. Questo è andato in onda sul Tg nazionale, ok? Quindi tutta Italia ha potuto leggere lo username e la password per il sistema di gestione dei vaccini. Tra l'altro, l'inizio, poi vi lascio immaginare il resto, di username e password erano vacci e vacci, quindi capite che non era neanche qualcosa di particolarmente difficile da indovinare. Quindi, rassegnatevi, siamo in un mondo interconnesso, siamo in un mondo digitale, ma il digitale ci dà dei servizi, semplifica la vita, ma è un qualcosa di delicato che dobbiamo imparare a utilizzare bene. Quindi non possiamo permetterci di ignorarlo e di non sapere quali sono i limiti e quali sono i giusti comportamenti. Non è tutto facile. Le cose fatte bene richiedono sforzo, richiedono conoscenza, richiedono un po' di impegno, ma è l'unica strada con cui possiamo tutelarci. E poi ci sono leggi e regolamenti che nel mondo digitale sono particolarmente importanti, non soltanto per ragioni etiche o perché così non ci prendiamo le multe, ma perché sono pensate per prevenire questo genere di problemi. e quindi guidati da un po' di sana paranoia. Avere dei backup di tutto, ma anche nel mondo reale. Non fidatevi troppo del sistema digitale, non andate in montagna con la mappa di Google Maps, ok? O sul telefonino che se poi non c'è campo non vi dice più dove dovete andare, oppure fa freddo, il telefonino si scarica e se siete fortunati vi vengono a cercare quelli del soccorso alpino e se non siete fortunati non vi trovano, ok? Quando vi date un appuntamento da qualche parte, quando siamo lì ci sentiamo, non è molto robusto, perché se poi qualcosa non funziona nei telefoni non riuscite neanche più a vedervi se siete a un isolato di distanza. Quindi cercare di avere dei meccanismi nel mondo reale che vi permettano di fare quel minimo necessario per continuare le vostre attività anche se il mondo digitale viene colpito o non funziona a causa dei suoi limiti e delle sue vulnerabilità. Se avete dei numeri di emergenza, scriveteveli su un sano foglietto di carta e teneteveli nel portafoglio. Non fidatevi. È chiaro che noi vorremmo poterci non fidare di nulla, di nessuno mai, però questo non è proprio possibile. Dobbiamo fidarci di qualcosa, ma facciamolo con consapevolezza e una volta che sappiamo che se ci stiamo fidando di qualcuno o di qualcosa le informazioni che gli diamo, gliele affidiamo in relazione al grado di fiducia che abbiamo deciso di dare, a quel punto diventiamo prudenti nel decidere che cosa fornire e che cosa no. Gestire bene i dispositivi, i sistemi. Voi sapete gestire account, gestire un minimo la rete domestica, mettere un minimo in sicurezza il router, usare i firewall eccetera. Fatelo, anche se richiede quel po' di fatica, non tutto è facile, dicevo prima. Richiede quel po' di fatica in più, ma che è essenziale per permettere poi ai sistemi di lavorare con quella necessaria sicurezza e con, dal punto di vista nostro, quella necessaria e adeguata tranquillità. Cautela nel fornire i dati online, sui social, mai e poi mai via mail, cautela anche in generale nell'utilizzare i servizi di comunicazione, essere sempre certi dell'identità di colui che sta dall'altra parte. E quindi in generale abituarti a comportamenti orientati alla sicurezza, essere sempre un po' paranoici e pensare sto facendo un qualcosa di sufficientemente sicuro, di sufficientemente prudente, ho preso tutte le precauzioni necessarie e poi, visto che voi siete più esperti probabilmente di quelli che vi circondano, di quelli che sono i vostri familiari, diffondete questa conoscenza, diventate parte attiva per fare in modo che il nostro mondo digitale diventi sempre più sicuro. E con questo io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, naturalmente adesso, oltre al video, ci sarà spazio per le domande e vi auguro un buon futuro a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.